Allora siamo con Leonardo Romagnoli, allenatore del Centro Cell Calcio a 5, un'opinione su quello spettacolo a cui stiamo assistendo in queste Final Four? Abbiamo visto delle compagini molto attrezzate, una bella partita, quella tra il Ferrentino e la Lazio Calcetto, combattuta, e infatti è finita 2-1, secondo me è meritato al Ferrentino di passare il turno. Abbiamo visto anche dei risultati sorprendenti, come quello che ha appena commentato lei, ma penso anche a quello della gara appena terminata con la vittoria del Torino. Sì, infatti la vittoria del Torino è sorpresa, però poi a lungo andare penso che la Virtus si è mangiata il gol che poteva chiudere il match e poi il Torino ha preso il sopravvento e alla fine è andata in finale, meritatamente penso. Questi risultati sorprendenti vi sono anche un po' la conferma dell'assoluto valore delle squadre partecipanti, nessun risultato scontato? No, 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 assolutamente, tutte partite combattute fino all'ultimo, quindi un ottimo lavoro da parte degli allenatori. Qualche pronostico? No, no, assolutamente no, non si fanno pronostici. Grazie mister. Grazie a tutti.